Buonasera, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano questa sera il sopralluogo che si è tenuto in mattinata, un sopralluogo congiunto della quarta e della seconda commissione per monitorare le condizioni della ex manifattura tabacchi anche in vista della riqualificazione che la coinvolgerà e soprattutto la luce dei recenti furti che sono avvenuti all'interno. Allora c'era anche l'assessore Palone che in questo momento è collegata via Skype con noi. Buonasera assessore. Buonasera, buonasera a voi. E allora come è andato il sopralluogo? Quali sono effettivamente le condizioni su cui vi siete trovati davanti questa mattina? Una situazione che personalmente conoscevo già e già sotto osservazione da parte dell'amministrazione da un anno circa. È un mercato che ha problemi strutturali, quindi un mercato abbastanza adattato e oltre a qualche mattonella ha subito insomma dei danni. In questi anni c'è una riduzione degli operatori mercatali all'interno di quel mercato. Abbiamo già delle opzioni, abbiamo tre opzioni che proprio in queste settimane parleremo con gli operatori. Quindi la posizione, le entrambe posizioni, lavori pubblici e sviluppo economico durante un question time mi hanno chiesto un sopralluogo congiunto. Rispettando il lavoro appunto dei consiglieri comunali abbiamo fatto questo sopralluogo per renderci conto di com'era la situazione del mercato. Ripeto, verranno incorporati e messi tutti insieme per dare la possibilità alla ditta successivamente che vincerà il bando per la ristrutturazione del mercato, dare la possibilità agli operatori di continuare a lavorare. Assessore, lo dicevamo in apertura, tutto questo nell'ambito di una riqualificazione generale di tutta la struttura. Noi ne abbiamo parlato diverse volte nei nostri contenitori, però vogliamo ricordare a chi ci ascolta quale sarà il futuro della ex manifattura tabacchi. Sarà sicuramente uno dei poli vivi della città, situato appunto nel quartiere di libertà, un quartiere che in questi anni ha avuto delle evoluzioni anche a livello di persone, di cittadini che abitano all'interno. Multietnica sicuramente, ma ha un altissimo tasso di giovani coppie che decidono di vivere nei libertà. Il CNR sarà in luogo lì, Porta Futuro adesso è già esistente, ci sarà Porta Futuro 2, ci sarà la caserma dei Carabinieri. Dico ci sarà, ma non in un futuro lunghissimo, è tutto in corso, sono già stati fatti gli appalti. Stanno realizzando queste nuove strutture dove vedrà la manifattura tabacchi un vero centro, ripeto, sia col CNR sia come polo dell'innovazione tecnologica con Porta Futuro 2. È una ristrutturazione totale del mercato, quindi non sarà più il mercato anche solo in mattina. Il nostro augurio è sempre quello che con gli operatori di mercatari riusciamo a far vivere i mercati anche la sera. E lo dicevamo poco fa, anche i recenti furti avvenuti all'interno della struttura, in particolar modo le chiedo come ultima domanda come stanno reagendo gli operatori. Beh, gli operatori sono preoccupati, questa mattina hanno chiesto più controlli da parte delle forze dell'ordine. La polizia locale è presente all'interno del mercato la mattina, sia la presenza all'interno del mercato, mentre l'AMTAV è presente nel parcheggio. Significherebbe, dico la verità, uno o due pattuglie a ogni mercato della città, abbiamo fin 12 mercati e questa cosa non è possibile. Chiesto il supporto delle forze dell'ordine che sono presenti, quindi noi ci auguriamo e dico anche agli operatori mercatari, come ho detto questa mattina, di segnalare qualora ci fossero situazioni non proprio a norma all'interno del mercato. Alcuni lo fanno già, altri hanno ancora timore, sanno da che parte devono stare, ma hanno ancora timore a raccontare quello che a volte succede all'interno dei mercati cittadini, ma anche all'interno della città stessa, come tutte le città, come tutti i mercati italiani. E su questo per questa sera ci fermiamo, Assessore come sempre io la ringrazio per la sua disponibilità, le auguro buona giornata e so che deve ancora lavorare, dunque buon lavoro. Sto uscendo, infatti. Grazie. Ciao. Grazie, grazie all'Assessore Comunale e alle attività produttive Carla Palone, noi andiamo avanti e cambiamo completamente argomento. Insomma, lo sapete, la Sagra di San Nicola torna in presenza dopo i due anni di pandemia. Questa mattina si è tenuto il primo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, un incontro prettamente interlocutorio, ma vediamo cosa è emerso. Ricominciano le manifestazioni ogni domenica in città, una diversa, e ci stiamo preparando al ritorno della festa di San Nicola e delle frecce tricolori che animeranno non solo la città di Bari, ma anche alcuni comuni dell'area metropolitana. Sono le parole del sindaco Antonio De Caro a margine questa mattina del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata alla festa di San Nicola. Nessuna decisione è stata presa in prefettura, l'incontro è stato del tutto interlocutore. Si procederà poi con una serie di incontri dedicati a ogni singolo dettaglio della festa più amata dai baresi. E grande attenzione anche al ritorno delle frecce tricolori. Le manifestazioni, fa sapere il prefetto di Bari, Antonio Bellomo, saranno precedute dalle prove nel capolugo pugliese già il 5 maggio, per poi proseguire nei due giorni successivi a Molfetta e Giovinazzo. E sulle ultime due, laurea del lungomare occupata sarà abbastanza ampia, continua il prefetto, per una manifestazione a cui potranno partecipare circa 40.000 spettatori. Quella di Bari sarà ovviamente più complessa perché coinvolge tutta la città. Sappiamo, ha concluso il prefetto, che attrae tantissime persone e saranno necessarie misure d'attenzione particolari che riguarderanno aree da interdire, apparati di sicurezza e vigilanza e anche l'aiuto di tanti volontari. E per le valutazioni sull'emergenza Covid saranno i sindaci, in quanto autorità sanitarie locali, a prendere decisioni in relazione alla situazione pandemica. E proseguiamo con il nostro reportage sulla costa tra Palese e Santo Spirito. Parliamo di un orizzonte caratterizzato da ruderi e poi le parole dei residenti. Non ce la facciamo più, vogliamo una soluzione a questo degrado. Da un lato il mare con i suoi colori più belli, dall'altro il panorama desolante dei vecchi ruderi un tempo ristoranti in auge della città di Bari. Due chilometri di costa tra Palese e Santo Spirito e un orizzonte deturpato da strutture fatiscenti crollate sotto il peso del tempo, simbolo anche di autorizzazioni facili di epoche ormai passate. Il loro recupero sembra essere paralizzato tra vincoli, autorizzazione e competenze. Le carcasse dei vecchi insediamenti sul litorale che scandiscono la passeggiata vista mare sono un pugno nello stomaco per i residenti della zona, stanchi di quei monumenti al degrado pericolosi per la salute e per la sicurezza. Perché non è giusto questo? Vogliamo una risposta, vogliamo una risposta, perché Palese non ce la fa più ad essere abbandonato da tutti. Il Comune è pronto a bandire una gara per affidarne la gestione a imprenditori economici interessati, ma ci sono vincoli da rispettare. Quello paesaggistico innanzitutto in caso di demolizione la ricostruzione deve avvenire rispettando i criteri del piano paesaggistico territoriale e regionale, secondo il quale vanno preferite le strutture legno amovibili. Ma c'è un altro paletto che riguarda le edificazioni antecedenti al 1950 che essendo vincolate non possono essere demolite. A parte i turisti che già stanno sul posto qui, perché Palese è sempre stata una zona di veleggiatura, e ci deridono guardando il ristorante, la fanno delle foto come souvenir, bello, vedesse. La cosa che volevo dire innanzitutto alle autorità competenti è che dall'ex ristorante L'Ancora sta sbriciolando l'amiante, e l'amiante sappiamo benissimo cosa significa, e non vorrei che qualcuno ne paga un giorno, perché quando piove le acque che scorrono verso il mare scorre anche l'amiante, intanto inquina anche il mare, perché stiamo tanto per salvaguardare il mare, invece no, lo stiamo inquinando. E inoltre quando c'è la tramontana, tutte le polveri che si sbriciolano vanno a finire nelle case delle persone che stanno pranzando, che stanno dormendo, e questo penso che non è giusto. Qualcuno si deve assumere le responsabilità. E cosa dicono i vecchi problemi? Promettono di cure e vengono meno di certo. A noi c'è un problema di mare e monte qua, mare e monte, non ci abbiamo visto né il mare né il monte. Due chilometri di degrado, l'ex ristorante La Vela, Mitili Adriatico, l'ex ristorante Il Galeone, è degrado totale. Che già qua non ce la facciamo più, per questa situazione che stiamo, non ce la facciamo più. Vogliamo l'autonomia, sanno tutti, tutti i sindaci sanno tutti di Palese, ma noi vogliamo l'autonomia. Come si risolve la questione? La palla passa a De Manio, Capitaneria e Sovrintendenza, tre articolazioni dello Stato che devono decidere come risolvere l'impasse per permettere al Comune di procedere a quell'affidamento ai privati e garantire una seconda vita a quei ruderi che sono ormai da troppo tempo una ferita per i residenti. E parliamo adesso di vaccinazioni anti-Covid. L'offerta degli hub si adegua alla ridotta domanda dell'ultima settimana. Vediamo. I cartelloni destinati ad andarsene, le ultime operazioni prima dello smontaggio, con la fine dello stato di emergenza anche molti hub vaccinali saranno in questi giorni smantellati. Con una media di 300 vaccinazioni appena al giorno in tutta la provincia, l'offerta iniziava a diventare sovradosata rispetto alla richiesta. L'ASL di Bari ha così avviato la riprogrammazione delle attività. A Trigiano, per esempio, il sindaco Antonio Donatelli ha ringraziato il personale che ha lavorato con grande impegno per oltre un anno nel Palazzetto dello Sport. Dal primo al 30 aprile i centri di riferimento per l'area di Bari resteranno dal lunedì al venerdì, secondo gli orari pubblicati sui canali dell'ASL, principalmente di mattina con alcuni rientri pomeridiani, quello della Fiera dell'Evante e quello di Catino, per Bari, più quelli di Alberobello, Grumo Appola, San Michele, Terlizzi e Valenzano. L'accesso non richiederà più la prenotazione, basterà presentarsi a Sportello per chiedere la vaccinazione, una regola che vale anche per i più piccoli. La campagna vaccinale per ora è arrivata a 9.330.000 dosi su tutta la regione, in attesa di eventuali, speriamo remoti, nuovi sviluppi della campagna vaccinale. E il quartiere Carrassi celebra la promozione del Bari Insieme Rebbi in una festa in Via Pasubio, l'evento in programma domani a partire dalle ore 17.30, organizzata dall'Associazione dei Commercianti La Formica, in collaborazione con il secondo municipio e l'Associazione Tiberini 1908. Saranno presenti numerose scuole calcio, vecchie glorie e una delegazione della SSC Bari. Quindi sentiamo le parole di Mimmo Tarantini, presidente dell'Associazione Le Formiche. È un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente già da mesi, poi il Covid non ci ha dato la possibilità e abbiamo deciso, mentre gli altri parlavano, ma manca un punto, noi siamo andati convinti, andiamo a Latina in serie B e quindi il 6 facciamo la festa. La festa è intitolata Un quartiere si colora, commerciante bianco-rosso, U-Prix. E questo è quello che stiamo creando. Insieme al municipio abbiamo fatto la richiesta della chiusura di via Pasubbio, da via Bucari a Corso Veneto Croce, l'abbiamo avuta, quindi non ci saranno le macchine, sarà tutto transennato. Verranno calciatori del passato, verranno le scuole calcio, ma tantissime, sono veramente cremi tantissime. Verrà il Bari Basket in carrozzella, verrà la squadra femminile del Fesca e poi tante belle sorprese, non le diciamo tutte. Noi ci impegniamo a tenere viva questo quartiere. Proprio qui se ti giri c'è un fitasi ed è una pugnalata al cuore per noi, perché cerchiamo in tutte le maniere di sopperire a quelle che sono le difficoltà. Insomma, è impossibile mancare alla manifestazione che si terrà a partire da domani. E intanto in Casa Bari, raggiunto il traguardo della promozione, è tempo di bilanci. Allora ascoltiamo uno stralcio della conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio nello stadio San Nicola da parte del direttore sportivo Ciro Polito. Mignani e Miss del Bari. Do una risposta secca anche a qualche collega vostro che ha messo in dubbio in un momento così delicato che ha fatto uscire una notizia che non ha fondamenta e che proprio nei miei principi mi ha anche offeso. Perché Fabio Caserta in tutto sta lottando per il suo campionato. Che Fabio Caserta è prima un mio amico e poi un mio allenatore. Andrea Sottil è stato un mio amico e un mio allenatore. Pasquale Marina è stato un mio allenatore, non l'ho portato al Bari. Non perché è un mio allenatore. E aveva valori veri per allenare il Bari. Garbone è un mio amico. Che vuol dire che si allena per l'amicizia? Mignani io non lo conoscevo, non sapevo neanche l'esistenza. Però Mignani è diventato la natura dei Bari. E c'era tanta differenza all'inizio. Quindi siccome, credetemi, si usano tante frasi da bar, frasi di circostanze. Non c'è gli attributi, il carattere, è questo. Questo è il calcio che te lo porta. Ognuno deve dire qualcosa. Ma perché la gente parla senza senso, senza cognizione di causa. Mignani è veramente a valori veri. Poi, in futuro non lo sappiamo quello che farà. Ma se Mignani lo mettiamo sul mercato, se lo mangiano, vi posso già garantire che hanno chiamato a me per chiedere di Mignani. Società già di un certo tipo. E noi siamo in chiusura di questo primo spazio. Ci fermiamo per qualche istante. E non andate via, torniamo subito con altre notizie. E rieccoci in diretta. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Non si ferma la macchina della solidarietà nei confronti del popolo ucraino. La Onlus Aegebeo ha accolto due piccole pazienti oncologiche e le loro famiglie. Maria e Michelle si stanno sottoponendo alle cure degli ospedali baresi. Vediamo. La città di Bari continua a stringersi attorno al popolo ucraino. Dopo le raccolte di beni di prima necessità e le aiuti economici, anche la Onlus Aegebeo ha deciso di accogliere i profughi fuggiti dalla propria nazione dopo i bombardamenti da parte dell'esercito russo. L'associazione fondata da Michele Farina ha aperto le porte della propria sede a due nuclei familiari con due piccoli pazienti oncologici. Il mio non è un appello legato al bisogno, perché come avete sentito già queste famiglie di per sé, ogni famiglia ha tanti di quei bisogni. Noi cerchiamo di sollevarli sotto tutti gli aspetti, soprattutto quelli morali e umani. Tania è fuggita da Di Nipro ed è arrivata a Bari il 28 febbraio. Sua figlia Maria ha quattro anni e combatte da tempo contro il cancro. La piccola sta proseguendo il suo percorso di cura nel capoluogo pugliese. Madre e figlia hanno trovato un posto sicuro grazie all'ospitalità offerta da Aegebeo. Papouma e sua moglie vivevano ad Odessa, una delle città più martoriate dal conflitto e sono riusciti a mettersi in salvo dopo aver perso la propria casa a causa dei bombardamenti. La figlia della coppia, Michelle, prosegue la sua battaglia contro il cancro a Bari. Lui voleva stare in Italia perché sta tranquilla per bambina, per lavoro, per tutto. Sta tranquilla perché in Ucraina non ho la possibilità di essere per paesi. Nella sede di Aegebeo ci sono anche Anna e Pietro, due giovani ragazzi di origine romena. Brian, uno dei loro tre figli, si sottopone alle cure oncologiche nel capoluogo pugliese. Il padre del bambino chiede un lavoro per poter mantenere la propria famiglia. Non posso lavorare perché ho tre figli, come già l'ho detto, mio figlio malato, in altri due che io sto a casa quando mia amore sta in ricovero con il bambino malato. Quindi non possiamo lavorare, stiamo in una parte economica molto brutta. Possibilmente se mi potranno aiutare questa economia c'è. E siamo alla cronaca. Bruna Bonvino aveva subito un'aggressione nel corso della quale aveva lottato prima di subire quei brutali colpi al volto. E quando fu atterrata e sovrastata dall'assassino non poteva più muovere le braccia e difendersi dai colpi che le venivano inferti. Riusciva però a muovere il capo e le mani assai verosimilmente in maniera convulsa, nell'istintivo e disperato, ma altresivano, tentativo di sottrarsi ai colpi che il suo assassino continuava a infliggere. E questo è un passaggio delle motivazioni in base alle quali la Corte d'Assisi ed Appello di Bari ha condannato alla pena di 26 anni e 6 mesi di reclusione il 42enne Antonio Colamonico, imputato per l'omicidio della ex Bruna Bovino, estetista 29enne italo-brasiliana, uccisa a Mola di Bari il 12 dicembre del 2013. In primo grado nel luglio del 2015 Colamonico era stato condannato a 25 anni di reclusione. in Appello nel novembre del 2018 era stato assolto e il 20 settembre scorso, dopo l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, un nuovo collegio della Corte d'Assisi ed Appello ha ribaltato nuovamente la sentenza, dichiarandolo colpevole di omicidio volontario e di incendio doloso. E per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it ci colleghiamo con Italo Cinquepalmi. Ciao Italo, bentrovato. Buonasera Serena, l'Ordine degli Avvocati di Bari ha una nuova Presidente il Consiglio dell'Ordine eletto, l'Avvocata Lavorista Serena Trigiani. Sarà lei Vice Presidente durante la Presidenza dell'Avvocato Stefani a ricoprire la massima carica del Foro Barese sino alle nuove elezioni del Consiglio in programma gennaio 2023. Sarà un mandato in continuità rispetto al passato e con quanto fatto negli ultimi anni dal Consiglio dell'Ordine, ha dichiarato Serena Trigiani, prima Presidente donna nella lunga storia dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Continueremo a batterci sul principale problema del nostro foro, quello dell'edilizia giudiziaria, nell'ospicio che si possa assistere a concreti passi in avanti prima che termini questo mandato. Gli altri obiettivi poi sono la riorganizzazione degli uffici giudiziari e il superamento delle limitazioni nell'accesso agli uffici legate al periodo pandemico e poi la valorizzazione della figura dell'Avvocato, premiata la volontà elettorale anche per quanto riguarda la carica di Vice Presidente dell'Ordine che sarà ricoperta dall'Avvocato civilista Antonio Bellomo, terzo candidato più suffragato nelle elezioni del 2019, alle spalle di Stefani e Trigiani. Bene, con questo è tutto per oggi. Serena, a te buona serata. Grazie Italo, noi andiamo avanti. Bari come Gerusalemme con la sacra rappresentazione della Passione Vivente di Cristo venerdì 8 aprile nella parrocchia di Santa Maria Maddalena. Vediamo. Sarà dedicata ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e ai volontari impegnati in prima linea per l'emergenza Covid. La rappresentazione della Passione di Cristo che si terrà l'8 aprile alle 19.30 nella parrocchia di Santa Maria Maddalena. Il programma è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo di Città dal direttore artistico dell'Opera Teatrale Giuseppe Rossini. Affiancheremo ai quadri evangelici della narrazione della Passione di Cristo la vita e gli iscritti di Don Tonino Bello. Quindi i quadri evangelici che sono tratti dai quattro vangeli della Bibbia e invece la vita proprio di Don Tonino sarà narrata da un attore, da Giuseppe Cartolano. La rappresentazione nella quale alla fedeltà dei testi evangelici si affiancherà il pensiero di Don Tonino Bello, testimone di pace, in vita alla speranza dopo il buio legato alla pandemia e al conflitto in Ucraina, il primo evento pubblico di piazza dopo due anni di silenzio. Rappresenta sicuramente la speranza che si possa superare questo momento complicato su più fronti, sia sul fronte della pandemia che ci sta vedendo ancora alle prese con un problema sanitario che è presente sullo sfondo ma che condiziona costantemente le nostre vite e poi c'è la guerra in Ucraina che è un elemento sul quale in questo momento siamo concentrati. E fino al prossimo 18 aprile Bari Blu ospiterà Eco Safari, un tour immersivo nel mondo degli animali. Inoltre grazie al patrocinio del WWF Italia il centro commerciale contribuisce all'iniziativa Salviamo l'orso marsicano. Immergersi nella natura per un contatto ravvicinato con gli animali, quelli a rischio di estinzione o le specie che rappresentano la natura più selvaggia per guardarli più da vicino e conoscerli nel loro habitat naturale. E' questo l'obiettivo della nuova esclusiva iniziativa del centro commerciale Bari Blu che fino al 18 aprile apre le porte ad Eco Safari, il tour immersivo nella natura e nel mondo animale attraverso gli ambienti più selvaggi del pianeta realizzati in 3D. Ambienti che seguiranno il ciclo del tempo e varieranno illuminazione nel corso della giornata. Con Eco Safari i visitatori diventeranno veri e propri protagonisti del tour, potranno avvicinarsi agli schermi attraverso un touchscreen, scegliere l'animale che vorranno ascoltare per primo tra le varie specie presenti nell'habitat. Sarà poi l'animale stesso ad avvicinarsi a raccontare la propria storia coinvolgendo ed emozionando l'interlocutore. Eco Safari è un bioparco che permette un tour virtuale alla nostra clientela, ai bambini, ma non solo, quindi la possibilità di visitare, poter avere un contatto diretto con i vari ambienti, i vari habitat dove vivono alcune specie animali ormai in via di estinzione. Quindi un momento sia ludico ma anche altamente educativo. Il centro commerciale Bari Blu sosterrà la campagna WWF adotto un orso bruno donando 1.500 euro per progetti di tutela dell'orso marsicano, specie italiana a rischio estinzione. Basti pensare che nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono solo i 60 gli esemplari rimasti. Bari Blu insieme al WWF sostengono una campagna di sensibilizzazione, soprattutto volta a difendere una delle specie animali che sono tipiche dei nostri territori, quindi parliamo dell'orso marsicano. E continua il braccio di ferro tra l'amministrazione comunale di Alberobello e gli ambulanti per il riposizionamento del mercato settimanale dopo la pandemia. Vediamo. C'è ancora Maretta nella città dei Trulli sul mercato settimanale del giovedì, all'indomani della fine dello stato di emergenza sanitaria. Lo scorso 31 marzo, infatti, è stata l'ultima volta in cui le bancarelle hanno trovato posto nella zona periferica di Contrada Popoleto, collocazione ritenuta necessaria sin dall'inizio della pandemia dall'amministrazione comunale per evitare assembramenti nel centro del paese, ma mai piaciuta a commercianti e cittadini che hanno sempre contestato la mancanza di sicurezza perché troppo esposta al traffico veicolare e la posizione troppo decentrata, scelte che hanno pian piano impoverito la qualità del mercato con scarsi guadagni per gli ambulanti che tacciano l'amministrazione di scelte scelerate e di stagione drammatica per il commercio ad Alberobello. Da giovedì prossimo intanto si cambia il mercato come deliberato dall'aggiunta comunale il 15 marzo scorso non tornerà in centro come auspicato delle associazioni di categoria, ma in via Barsento, altra zona periferica. E proprio in queste ore il comune sta provvedendo all'assegnazione dei posteggi dopo aver stilato una graduatoria in base all'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. Procedure poco trasparenti per Savino Montaruli di Casa Ambulanti che contesta l'assenza degli stessi diritti per tutti gli operatori ed errori nel contenuto e nel metodo. Di qui la decisione di incaricare uno studio legale per presentare ricorso in attesa che l'amministrazione dia spiegazioni. E arriva a Gravina il Torch Run nazionale, iniziativa portata avanti dall'organizzazione sportiva Special Olympics. Ce ne parla Eziana Di Mola. Si terrà a Gravina l'undicesima tappa del Torch Run nazionale, una corsa staffetta a cui parteciperanno i cosiddetti custodi della fiaccola, nonché volontari esponenti delle forze dell'ordine, che la custodiranno sino alla cerimonia di apertura dei giochi Special Olympics, giornata dedicata a coloro che hanno disabilità intellettive. La fiaccola della speranza, infatti, è simbolo di coraggio e speranza, valori che Special Olympics supporta da sempre in favore di quelle persone che hanno disabilità. Al tal proposito abbiamo sentito la direttrice regionale Special Olympics, dottoressa Kettilo Russo. L'undicesima tappa del Torch Run Special Olympics Italia è un evento molto importante per la nostra città di Gravina in Puglia, perché ci darà l'opportunità di viaggiare nei luoghi più belli della nostra città e di far arrivare un messaggio di alto livello culturale, di sport e di inclusione a tutta Italia. È un evento nazionale, la nostra è la tappa che precede quella della Basilicata e segue a quella di Campobasso, De Molise, per cui aspetteremo insieme la fiamma olimpica, fiamma dell'amicizia, della ripresa e della pace, in piazza Benedetto XIII, 11 aprile 2022 alle ore 10. Ed è morto a Bari all'età di 87 anni il giornalista Antonio Mangano, una vita professionale alla Gazzetta del Mezzogiorno di cui è stato, lo ricordiamo, anche vice direttore. Da redattore capo è stato da anni il responsabile della prima pagina da tutta la redazione di Telebari, le più sentite condoglianze alla sua famiglia. E noi siamo in chiusura e come ti consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che dopo una temporanea rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia vedrà l'avvicinamento di una perturbazione dalla Spagna, perturbazione che raggiungerà il nostro paese proprio tra mercoledì e giovedì andando a interessare il centro-sud, a cominciare dal versante tirrenico. E così per questo mercoledì prevediamo un peggioramento del tempo in Sardegna, sulle regioni centrali tirreniche, ma piano piano le piogge raggiungeranno anche il medio adriatico. Il sud a fine giornata vedrà anche lui un peggioramento del tempo, a cominciare anche qua dai settori tirrenici. Invece il nord resta ai margini, quindi tempo nel complesso bello, solo qualche nuvoletta, e al nord tra l'altro temperature che inizieranno a sferare i 20 gradi, ma anche al centro-sud, clima diurno, molto mite. Per tutti i tagli e comunque sulle vostre località, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.